Se ti stai annoiando e non sai minimamente cosa fare, questo è il video giusto per te. Eccomi oggi con una lista di più di 50 idee di cose da fare per quando ti annoi. Let's go! 1. Cancella i vecchi contatti dal telefono. Fate un po' una pulizia, ci sono un sacco di persone che non ricontatterete mai più, che non vorrete sentire mai più, quindi perché mai tenere il loro numero? Oppure quando le persone cambiano il numero di telefono, vi arriva la notifica su WhatsApp e voi ignorate, non salvate il nuovo numero, non cancellate quello vecchio. Questo è il giusto momento per risolvere. 2. Rinnova la tua camera. E no, non serve spendere soldi per farlo. Anche solamente rigirare i mobili, cambiare i soprammobili, cambiare un po' la sistemazione delle cose può fare la differenza. Ogni due anni più o meno mi veniva questa cosa. Finisci una cosa che hai iniziato e mai portato a termine. So che succede anche a te, so che avrai qualche affare in sospeso, chiudilo. 4. Scrivere obiettivi diversi per i diversi ambiti della tua vita. Quindi che sia lo sport, la scuola, il lavoro, obiettivi personali, sbizzarritevi e sognate in grande. Leggere libri di crescita personale. Sono un po' più impegnativi magari dei libri di narrativa, ma sono molto utili e vi possono aiutare in diverse situazioni della vita. Anche semplicemente a riflettere su dove vi trovate ora. Aggiornare gli account social, la vostra bio, la vostra fotoprofilo, il vostro feed. Controllate un po' anche gli altri, prendete ispirazione. Io appassionata di social, adoro fare questa cosa. 7. Fate un decluttering totale dei vostri follow su Instagram. Smettete di seguire tutte quelle persone che non vi piacciono, non vi danno ispirazione, non vi danno nessun contributo nella vita, non sapete perché state seguendo, non sapete nemmeno perché avete iniziato a seguire. Semplicemente non vi danno più buone vibes e non meritano di stare nella vostra vita. 8. Cucina un dolce. Non mi fraintendete, io non sono brava in cucina, ma quando sono stressata, cucinare un dolce è il mio coping mechanism. Risolve tutto e in generale io amo mangiarli. Budgeting e qui vi rimando al video che ho fatto sull'organizzazione in cui c'è tutta una sezione interamente dedicata solo al budgeting, quindi a come prendersi cura dei propri soldi, a come risparmiare. 10. Cercare corsi online gratuiti che potete fare. Penso che anche Google ne offra alcuni. Mettete in vendita tutte quelle cose che non vi servono più. Avrete la camera piena di oggetti che non sapete minimamente nemmeno perché sono lì, quindi liberate spazio e fate felice qualcun altro. Imparate una nuova lingua. Ci sono tantissimi modi per farlo, anche gratuitamente, anche online. Ad esempio c'è Duolingo che io ho utilizzato per l'olandese, devo dire che grazie a quello ho imparato qualche frase e sicuramente ci ho fatto un po' di più l'orecchio. Altrimenti ci sono anche interi video YouTube che offrono un corso letteralmente gratuito. Insane. Personalmente una delle mie cose preferite da fare quando non so che altro fare. Provare nuove combinazioni di vestiti nell'armadio, anche prendendo ispirazione da Pinterest, abbinare accessori diversi, osare un pochino. Tanto so che non devo andare da nessuna parte, però magari trovo degli outfit che poi, la volta che effettivamente devo uscire e ho un'occasione, sono perfetti. Prepara la colazione per il giorno dopo. 15. Scrivi una bucket list di cose che vuoi assolutamente fare in un determinato periodo, ad esempio cose da fare prima della fine dell'anno scolastico, prima della fine dell'anno 2024, cose da fare con le amiche, cose da fare con il ragazzo, cose da fare con la famiglia. Ci sono infinite liste che potete fare, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Aiuta qualcuno della tua famiglia o dei tuoi amici con qualcosa in cui stanno facendo fatica o semplicemente in cui hanno bisogno una mano. È sempre bello, vi riempie il cuore e anche il tempo. 17. Imparare a fare nuove acconciature. Gli slick back oppure le trecce, io devo assolutamente rimparare a fare quelle che partono dall'alto perché le sapevo fare una volta, giuro, adesso black out totale. E, sempre un po' dello stesso discorso, prova nuovo make-up, sperimentando soprattutto con ombretti oppure illuminante, contouring, sono cose che io non faccio mai, però quando ho un po' di tempo mi piace sperimentare perché non si sa mai che trovi il mio make-up perfetto. Lava o spazzola il tuo animale domestico. Se hai la fortuna di averne uno, passa del tempo con lui. 20. Coloring books. Sono la svolta, potete colorare, nel frattempo rilassarvi, ascoltare un po' di musica e il tempo passa. E state lontano dagli schermi. Se siete grandi fan della lettura come me, fate il vostro segnalibro personalizzato, così date sfogo anche alla vostra creatività. Crea una Pinterest board che ti ispiri. Metti tutte le foto carine che hai trovato, guarda frasi motivazionali, fai una Pinterest board che ti dia delle good vibes. Pianifica il tuo prossimo compleanno, se è vicino, oppure la tua prossima festa in generale. 24. FaceTime con amici o famiglia. Soprattutto se, come me, vivi lontano da loro, è importante mantenere i contatti. E sono proprio i tempi morti in cui dobbiamo sfruttare l'occasione per parlarci un pochino e aggiornarli. Organizza quegli spazi che ormai dai per scontato e praticamente dimenticato come cassetti e armadietti. Soprattutto quelli del bagno, per me sono un incubo perché devo ripulire tutto il fondo dove sono colati inevitabilmente i prodotti di skincare, capelli, olivari, terrificante. Per quello continuo a procrastinarlo, ma prima o poi va fatto. Meal plan. Organizza i tuoi pasti della settimana o semplicemente scrivi delle idee di ricette che vuoi realizzare prossimamente. Utile soprattutto se stai cercando lavoro, ti stai approcciando al mondo del lavoro, sei interessato a questa cosa. Scrivi o migliora, aggiorna il tuo curriculum. Fatemi sapere se volete un mini video dedicato, magari uno short oppure su TikTok o Instagram, perché se vi va vi posso far vedere come ho fatto il mio. Un po' che cosa scrivere se siete un po' persi. Pulire camera. So che è una cosa noiosa, quindi forse se vi annoiate non lo so se è proprio un assimo, ma non avete scuse per rimandare in realtà, perché non state facendo nient'altro. Organizza il tuo computer, non so voi, ma io non so come accumulo così tanti file e cose inutili, quindi ogni tanto pulire tutto fa sempre bene. Trenta, e io qui lo farei tutti i giorni. Rewatch di una serie tv. E romanticizzalo un po', non sederti semplicemente di fronte allo schermo, metti la serie e basta. Prepari popcorn, fai un setup carino, metti le coperte, scendi le candele, tutto quello che può contribuire ad un'atmosfera molto cozy e accogliente. Vai a camminare o correre. Serve per sfogare i pensieri, per rilassarsi, è utile proprio a livello mentale, oltre che a livello fisico. Se sei fortunato, io no, perché vivendo in Olanda l'unica cosa che posso pulire è la mia bicicletta, ma se hai la macchina, pulisci la macchina. Scattare nuove foto per il tuo Instagram, così puoi aggiornare il tuo feed. Trentaquattro, fai dei live lens, ovvero prenditi del tempo per te stessa e per ragionare su quello che ti piacerebbe fare in un futuro. Time capsule. Prepara una scatola dei ricordi, non so se avete presente quella puntata di Zoe 101, in cui in questa scatola tutti mettono qualcosa del loro presente, per poi aprirla in un futuro, riscoprirla in un futuro, oppure affinché qualcun altro la scopra in futuro. Fate così, mettete in una scatola i ricordi di questo periodo della vostra vita, magari scrivete una lettera al voi del futuro, da riaprire tra un po' di tempo, possibilmente minimo un anno. Personalizzare vecchi vestiti. Se non volete venderli, ma allo stesso tempo non li mettete perché non vi rispecchiano più, provate a personalizzarli e vedete cosa succede. Vai a fare volontariato, può essere anche semplicemente nel canile della vostra città, è una buona azione, può fare la differenza e voi sapete che cosa fare del vostro tempo. Trentotto, pianifica un nuovo viaggio. Io devo fermarmi dal farlo perché anche quando effettivamente non ho tempo di andare a fare un viaggio, sono lì che cerco tappe da fare, mete, voli... Sono pazza. Fai un bagno o una doccia rilassante? Anche qui mi raccomando l'atmosfera, metti le candeline, la musica rilassante, oppure una cosa che sai tantissimo che mi piace, sono i suoni della natura. Tipo le cascate, gli uccellini, gli alberi, il fruscio, pazzeschi. Quaranta, organizza una cena a casa tua con le tue amiche oppure i tuoi parenti, cucina un buon piatto, invita qualcuno e puoi anche fare una serata a tema per rendere tutto più divertente. Non so come sono arrivata a pensare questo, ma pulisci le tue scarpe. Se sei davvero annoiata, perché no? Avere delle scarpe pulite e ordinate aiuta anche ad avere un look che sembra più put together e ordinato. Scopri qualcosa di nuovo vicino a te, ad esempio un posto in cui non sei mai stato, un nuovo bar, una mostra, lasciati ispirare dai tuoi dintorni. E se vivi in un paesino, guarda qualcosa nella città più vicino a te. Scopri nuovi podcast. Sai quella sensazione quando vorresti assolutamente ascoltare qualcosa di nuovo perché sei sempre sulle stesse cose, ma allo stesso tempo non hai voglia di cercare? Ecco, fallo ora, così in futuro ti ringrazierai. 44. Medita. Stai un po' con i tuoi pensieri, puoi fare una meditazione guidata, ce ne sono a milioni su Spotify, su YouTube, così puoi anche riallinearti con la tua mente. Attività carinissima da fare con le amiche, il karaoke, anche da soli eh, però con le amiche rende tutto un po' più divertente, interessante. 46. Fare una face mask. Io vi consiglio quelle in tessuto perché sono un po' più facili da rimuovere, magari non vi impiastricciano i capelli, soprattutto se non è il giorno in cui li dovete lavare. Però allo stesso tempo sono molto idratanti e vanno ad agire in ogni caso sulla pelle. Fate una lista di libri da leggere, anche magari seguendo delle recensioni su internet oppure dei video su TikTok. Cercate di farvi ispirare dalle persone intorno a voi e scrivere una lista così che saprete già quando finite il libro che state leggendo al momento che cosa ci sarà prossimamente. Scrivere la to-do list per la settimana. Fan dell'organizzazione, venite a me. 49. Guarda un TED Talk. Ce ne sono letteralmente su qualsiasi argomento e sicuramente ce n'è anche uno che ti interessa particolarmente. 50. Scopri nuove app. Ormai ci sono app utilissime per qualsiasi cosa e app di cui nemmeno sapevi di aver bisogno. Fai un giro sull'App Store o su Google Store, si chiamerà così, non sono sicura. Vedi cosa ti potrebbe servire? Di solito ci sono anche le sezioni, quindi in base a quello di cui avete più passione potete vedere. Cosa che io voglio fare assolutamente al più presto, creare un portachiavi per le vostre chiavi di casa o per le vostre borse, visto che il trend dei bag charm è ancora in circolazione, fortunatamente. Siamo in direttura d'arrivo ma state con me per gli ultimi. Prova un nuovo workout con un video YouTube. E sempre un po' seguendo questa cosa, fai un DIY, ovvero un do-it-yourself, un lavoretto che trovi su TikTok, Instagram o YouTube. Prepara uno snack. Piccolo tip. Provate le fragole con il cioccolato fuso sopra. E per finire potete fare il cosiddetto window shopping oppure semplicemente uno shopping online. Non necessariamente comprando qualcosa in realtà, che va un po' contro la parola shopping, però anche semplicemente guardando un po' i trend del momento, le cose che vi piacciono. Magari aggiungerle alla wishlist per un futuro. Questo video termina qui, io spero tantissimo di avervi aiutato. Fatemelo sapere nei commenti e se avete altre idee non esitate a condividerle con me e con chi vi sta leggendo. Se vi fate andarmi a seguire anche sugli altri social, post, consigli, più o meno tutti i giorni, vi faccio vedere la mia quotidianità qui all'estero. Io vi mando un bacino e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.